smart ha presentato number three 422 cavalli 580 chilometri di autonomia da 28 mila euro byd rilancia con 400 chilometri a 12 mila mentre volkswagen presenta il nuovo id buzz super pompato con sette posti come nuovo i suv di toyota e per voi qui oggi anche una macchie in fiamme senza motivo e tesla richiama delle model y per il volante che si stacca improvvisamente e cacchio si sente parlare un po troppo di tesla model y che hanno qualche problema eh vabbè comunque ragazzi oggi c'è veramente tanta carne al fuoco inizio ringraziandovi per tutto l'affetto che ci date ogni domenica sono ormai quasi tre anni che vi porto le novità del mondo delle auto elettriche e vedo che le apprezzate mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto è gratis e mi aiuterebbe moltissimo a far crescere su youtube il mio canale e se avete qualche suggerimento non esitate a scriverlo qui sotto nei commenti o nella sezione commenti di www.elettronauti.it dove ogni settimana andiamo a fondo di tutti gli argomenti nel mondo della mobilità elettrica cominciamo da smart che in cina ha svelato ufficialmente quella che è la nuova smart number free sarà disponibile in quattro allestimenti pro plus pulse premium e brabus ma sotto il punto di vista tecnico saranno tutte basate sulla piattaforma sviluppata dal gruppo gili applicata anche sulla smart number one le varianti tecniche saranno due la prima sola trazione posteriore in grado di erogare 272 cavalli e 343 newton metro di coppia accelerazione da 0 a 100 in 5,4 secondi e velocità massima di 180 chilometri orari la seconda variante invece offrerà una configurazione a trazione integrale in grado di erogare fino a 422 cavalli e 543 newton metro di coppia ed accelererà da 0 a 100 in 3,6 secondi 180 chilometri orari sarà anche qui la velocità massima l'autonomia delle due varianti saranno rispettivamente di 580 e 520 chilometri in ciclo cltc che sappiamo essere un pochino meno preciso del vltp quindi teniamo sempre ben presente circa 70 chilometri in meno per quanto riguarda il pacco batterie entrambe le versioni condividono la medesima tecnologia da circa 62 kilowattora i prezzi alla conversione attuale partono da circa 28 mila euro ma sappiamo bene che in europa li eviteranno e non di poco mi aspetto che la versione base non sarà sotto i 35 mila ma ovviamente spero sempre di sbagliarmi rimaniamo in cina ma passiamo ora i one pro è un nuovo mini suv completamente elettrico proposto dalla casa cinese byd e sotto il punto di vista tecnico verrà offerto in diverse varianti con autonomie che toccano i 401 chilometri di autonomia in ciclo cinese cltc il motore è sempre lo stesso su tutte le versioni sarà in grado di erogare 94 cavalli e 180 newton metro di coppia la garanzia è molto interessante e copre fino a sei anni o 150 mila chilometri ma la cosa sconcertante è il prezzo sì perché il prezzo di partenza al cambio cinese è di soli 12 mila 400 euro folle beh sì a queste caratteristiche questo prezzo è decisamente fuori da ogni melone e di byd ne sentirete parlare molto presto sul mio canale ragazzi quindi rimanete connessi e rimanete connessi anche a www.elettronauti.it il mio portale di informazione elettrica aggiornato ogni giorno con tutte le novità del mondo dell'energia green e della mobilità lo so ve l'ho già detto quest'oggi ma veramente mi farebbe tanto 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 piacere che vi iscriveste al canale e che andaste a guardare www.elettronauti.it perché ci mettiamo proprio il cuore per voi ragazzi e torniamo per un momento in europa perché volkswagen ha ufficialmente svelato la nuova versione di id buzz e attenzione perché non è un nuovo allestimento ma una vera e propria versione differente anche sotto il punto di vista tecnico il passo infatti è stato allungato e per essere precisi questo id buzz è lungo 25 millimetri no centimetri ragazzi 25 centimetri di più di quello che avete visto fino ad oggi ed offre una configurazione a 6 o a 7 posti e visto che lo spazio disponibile è maggiore volkswagen ha deciso di cambiare anche il pacco batteria che ora è da 85 kilowattora lo stesso della nuova id 7 e dalla berlina il nuovo buzz prenderà anche il nuovo motore a cui vi ho già introdotto in molte cipi video anche vi ho detto che sarà in grado di erogare fino a 282 cavalli e spingerà il minivan da 0 a 100 in meno di 8 secondi e gli farà raggiungere i 160 chilometri orari di velocità massima auto limitata e per quanto riguarda la plancia e i comandi è quasi completamente uguale alla vecchia versione cambia solo lo schermo che ora è da 15 pollici ed il tetto che finalmente disponibile anche in vetro secondo me questa è la versione definitiva volkswagen avrebbe dovuto attendere a presentare direttamente questa versione rivista anche magari facendola pagare un po di più ma almeno avrebbe un senso inconfondibile anche se io sono un grande fan di di buzz devo dire che a parer mio manca ancora un pochino di autonomia vorrei una mega batteria da 150 kilowattora allo stato solido voi che ne dite e soprattutto quanto sareste disposti a sborsare per questo gioiellino per questa nuova versione vedremo comunque quanto costerà ve lo farò sapere ancora una volta nelle news che arriveranno future e a proposito di batterie torniamo in asia vi ricordate la wii ling mini e di abbiamo già parlato tantissimo e sembrerebbe che la casa voglia inizia a renderla disponibile all'acquisto senza pacco batteria con un prezzo di partenza di soli 2600 euro sì vi spiego meglio non è che la batteria ce la dovete mettere voi stile gicnicco la batteria sarà già lì voi ne pagherete in noleggio nello specifico il pacco batteria lfp da 9,3 kilowattora permetterà di percorrere 120 chilometri di autonomia in ciclo enedici con una singola carica e sarà acquistabile a rate mensili da 27 euro ma molto presto arriverà anche un altro pacco batterie questa volta però da 26,5 kilowattora che permetterà di percorrere 300 chilometri ed arriverà a costare più del doppio 74 euro al mese come dite potrebbe essere interessante un formato di noleggio di questo tipo lasciate stare il fatto che magari a voi willing non piace ma potrebbe interessarvi questo genere di noleggio batteria e fa parlare di sé questa settimana anche skoda che il 21 giugno 2023 esporrà a praga la sua nuova skoda eniac coupé respect line un esemplare unico che festeggia i diritti umani con badge unici livree rgb software personalizzato e dettagli della plancia a tema e prima di andare avanti ragazzi c'è anche plenitude più b charge che questa settimana fa parlare di sé perché ha messo in piedi un programma di loyalty per premiare la fedeltà di ogni loro cliente durante la sua prima fase che va dal 5 giugno 2023 al 1 ottobre 2023 be together sarà strutturata con un concorso a premio comprendente diverse modalità di gioco la prima è la instant win ossia dopo essersi iscritti al programma be together gli utenti potranno tentare la futura per provare a vincere immediatamente due buoni sconto nel valore di 5 euro ciascuno da utilizzare per le proprie ricariche in app b charge per gli sfortunati che non hanno vinto niente parteciperanno di diritto all'estrazione finale che si terrà entro il 2 novembre 2023 in palio ci saranno diverse coppie di buoni sconto del valore di 5 euro ciascuno al termine del concorso poi verranno estratti dei vincitori su base settimanale tra tutti gli utenti iscritti a be together che avranno effettuato le ricariche da almeno 10 kilowattora sul territorio italiano i partecipanti estratti riceveranno una carta prepagata da utilizzare per le proprie ricariche dal valore di 25, 50 o 100 euro aderire è super semplice basta scaricare o aggiornare l'app trovate il link in descrizione effettuare la registrazione e in quel caso già che ci siete mettete il mio codice amico così avete subito 5 euro in regalo e inserite una modalità di pagamento accettate il manifesto di be together e siete a posto se siete già registrati non vi preoccupate troverete già il banner nell'app cliccatelo leggete le condizioni e siete a posto brava B-Charge complimenti e rimaniamo in Italia precisamente a Milano dove il 16, 17 e 18 giugno 2023 si terrà il Monza Motor Show e tra tutti gli espositori ci sarà anche Polestar con due sue nuove creature la Polestar 2 BST 230 e 270 con 476 cavalli 680 Nm di coppia ammottizzatori all-ins assetto ribassato e tanti altri accorgimenti sportivi per migliorare le doti dinamiche del veicolo che non vedo l'ora di provare con mano e sempre Polestar ha da pochissimo rilasciato un aggiornamento over the air a tutte le Polestar 2 in circolazione per raggiungere qualche nuova funzionalità come ad esempio l'app YouTube che è finalmente utilizzabile per vedere i video ovviamente da fermi per chi fosse interessato nello specifico la versione del software in questione è la P2.9 e chissà quando tutte le auto arriveranno ad un livello di intrattenimento pari a quello di Tesla non credo ci vorrà molto ormai speriamo e già che ci siamo parliamo di Tesla che ha avviato un nuovo vero e proprio richiamo riguardante 137 Tesla Model Y prodotte dal 23 giugno 2022 fino al 1 maggio 2023 perché in qualsiasi momento il volante potrebbe staccarsi improvvisamente vi ricordate quel poveraccio in America che si era ritrovato con il volante tra le mani della sua nuova fiammante Tesla Model Y e cose che capitano però Tesla ha trovato il problema lo ha ricondotto ad un certo inghippo probabilmente nella catena di montaggio e ora sta fixando tutte quelle che hanno questo genere di problemi passiamo ora a Tesla Model S che ha conquistato un nuovo record quello di auto elettrica prodotta in serie più veloce del circuito del Nürburgring completando un giro in 7 minuti e 25 secondi portando via la corona a Porsche Taycan per 8 secondi sul giro una eternità ragazzi e sempre Tesla ha riaperto i preordini per la nuova Roadster che è stata presentata pensate più di 6 anni fa chissà quando diavolo la vedremo io non sono affatto caldo sull'argomento secondo me è passato tanto tanto tempo forse troppo perché non ha senso a parer mio pagare una caparra di 4000 euro oggi dopo pochi giorni puoi fare un bonifico da 39.000 per un'auto su cui non si sa nulla non si sa nemmeno se esiste non si sa neanche quanto costerà alla fine e quando mai arriverà puntiamoci ora sulle news areafrica e cominciamo con la Svizzera dove la Opel Corsa E ha impressionato gli appassionati del motorsport all'Opel Electric Rally Cup by GSA un evento rally di sole Opel Corsa Elettrica con powertrain stock e presto ci sarà una tappa anche in Francia rally du Bouguet chissà se magari Opel mi inviterà per andarci a fare un giro o fare un video mi piacerebbe veramente tanto se vi ricordate la scorsa settimana vi parlai della bicicletta di Hyundai ma questa settimana ci ha pensato anche Porsche con la sua nuova bici elettrica sviluppata con Rottweild che a sua volta si è ispirata a Taycan e a 911 questa bici ha una forcella da 120 mm motore Shimano in grado di erogare 85 Nm di coppia pacco batteria da 630 Wh prezzo di partenza 14.000 euro ci sta passiamo ora a Toyota perché sembrerebbe all'opera su un nuovo SUV completamente elettrico con 7 posti non si sa molto al momento solo che verrà costruito in una giga factory in North Carolina a partire dal 2025 grazie all'investimento di 2 miliardi di capitale fatto appunto dalla casa giapponese staremo a vedere chiudiamo questo episodio della news elettrica della settimana con questa ma chi polacca andata in fiamme per ragioni completamente sconosciute l'unica cosa che si sa è che ci sono volute due ore circa per spegnere l'incendio del pacco batterie vi farò sapere qualche novità nelle prossime settimane e come sempre ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine per me vuole dire veramente tantissimo e vi ringrazio molto anche per il vostro supporto che questa settimana è arrivato veramente forte sotto tutti i miei video grazie ragazzi i vostri commenti sono sempre molto molto apprezzati come apprezzo anche tantissimo che Paolo Federico Oscar Marco Salvatore Antonio Umberto e Roberto abbiano trovato nei miei video un buon supporto all'acquisto della loro Tesla e mi abbiano ringraziato utilizzando il mio codice amico grazie ragazzi grazie veramente di cuore e questa sera ragazzi non ci sarà il nostro consueto appuntamento live della domenica sera la live salta direttamente a domenica prossima grazie a tutti per il vostro supporto a presto elettronauti ci vediamo ah e andate a vedere su Instagram così capite come mai non faccio la live ciao allora cominciamo senza voce cioè la batteria sarà già lì voi ne pagherete il noleggio adesso mi gratto il naso perché mi prude sempre il naso quando devo fare le news